Diego Taglioni, Woper SLN, siamo uno spin-off di ricerca qui di Trento. Quest'iniziativa è stata per noi anche molto formativa, nel senso che collaborare con dei ragazzi giovani che sono freschi sicuramente ha la possibilità di conoscere anche il modo o come lavorano. Noi più vecchiotti siamo abituati o negli anni ci siamo abituati a lavorare in un certo modo. Vedere invece come approcciano i problemi questi ragazzi anche con nuove metodologie è stato molto interessante. Ciao! Ciao!